e come dice un grande amico mio vediamo se non sibila quest'altro non sibila me son messo un po' de gioie oggi addosso famo un piatto gourmet un piatto conventato io i spaghetti con l'oro ingredienti oro commestibile alimentare non è quello delle catenine volevate il piatto gourmet iniziamo con l'oro mo capite perché luccico così è fresco alleluia non so né incenso né oro né mirra perché io non so gesù cristo io so tommy intercuoco questi sono gli ingredienti più costosi in cucina zafferano pistacchi e pecorino 50 euro al tiro è il mio spaghettone quadrato tra filata al bronzo aglio perché non lo mastico adesso fa un piatto gourmet e non me mangio niente ho già visto peperoncino gourmet seminato con le mie manine pepe di sarawak aromatizzato al limone che è andatevelo a cerca il famoso e richiestissimo burro fatto con le mie manine è un piatto gourmet io però so paura che non mi ascia la ricetta per questo piatto dobbiamo mettere un filo d'olio questo ve lo bevete adesso abbassiamo la fiamma uno spicchio d'aglio peperoncino fresco intero a questo punto levate l'aglio una volta che è diventato bello biondo mettetelo da parte leviamo anche il peperoncino sempre da parte adesso mettiamo una parte del pistacchio buttiamo la pasta vi faccio vedere che non sta bollendo perché tanto non lo sapete ma la pasta non si cuoce perché bolle l'acqua poi dopo ve lo spiego a quanti gradi si cuoce la pasta e vi spiego anche perché la fate bollì nel frattempo in un recipiente mettiamo il pecorino e un goccio d'acqua di cottura quando ci serviva si facciamo una leggerissima crema di pecorino sempre cucina gourmet quando voi mescolate il tutto c'è un metodo per farla uscire così bella e setosa è rolex perché il movimento del polso con il rolex ti dà quel giusto peso molecolare per far uscire la crema come deve uscire scolliamo la pasta un mestolo d'acqua di cottura e giù queste zampette mo faccio una cosa che tanto vi devo sempre spiegare è il sale un pizzico perché se vi siete scordati ci abbiamo anche il pecorino mentre si finisce di cuocere la pasta gourmet ti spiego la gradazione la pasta non cuoce a 100 gradi tu fai bollire la pasta perché altrimenti non sai la gradazione dell'acqua la pasta in verità cuoce a 80 gradi e sapete perché so queste cose perché sotto al mio cuoco mentre si sta finendo di cuocere mettiamo il pepe dentro di sarawak dici ma non l'hai tritato? no perché questo si scioglie in bocca e per questo pepe mi sono fatto la scalata di 2500 metri sulle montagne giapponesi solo per fare questo piatto gourmet se non vi esce sta crema non è perché sbagliate qualche passaggio o sbagliate la ricetta è perché inseriamo un mio cuoco mettiamo poca poca di acqua il preziosissimo burro fatto con le mie manine e daglie con queste zampette adesso aggiungiamo lo zafferano come potete vedere già preso il colore dell'oro è un piatto lussuoso ma potete farlo anche a casa vostra nella cucina gourmet l'impiattamento è importantissimo questo ve lo maniate voi ma l'impiattamento aggiungiamo a goccioline il pecorino e adesso per completare il piatto dobbiamo mettere l'oro ho Pistacchio È una massaggio È gourmet, quindi con calma Mo si, sto piatto è come me Una pepita che luccica Sono numero uno Alla prossima ricetta, bon ben Ciao